Va bene, allora ho capito, bisogna andare chi è metter Tinelli Dino, con due L, Dino, Tinelli, Dino e vediamo cosa viene fuori, viene fuori YouTube, ma chi è anche al sito, perciò basta andare chi è a vedere Tinelli Dino e viene fuori Libero Ricercatore, dove ha scritto tante robe, l'indice alfabetico, la playlist, i video di Brighton è in giro per il mondo, il teatro, le esperienze lavorative, mi sa che è questo chi che suona la chitarra perché è il risveglio, e so che è gratuito, Paypal, si vuole regalare un caffè e questo chi è il contavisite del mondo, vabbè, comunque chi è il menu, e se si versi il menu che è un bel po' di robe, ad esempio il Brighton, se si clicca qui su Brighton si salta fuori ah la pagina del Brighton, guarda chi come l'è fatta, eh che tanti video anche qui, guarda, guarda, guarda e questi chi è gli ultimi, allora questo, speciale per Morissà, Draghi a Napoli, Draghi a Napoli anche vabbè, torniamo su Dino Tinelli, che lo vedrà il mondo e vediamo anche l'indice alfabetico, clicca qui, eccolo lì, indice alfabetico manca 890 giorni all'inizio della fine del mondo, i giorni del straw, del buio, chi che è? clicca qui, clicca qui per accedere alla piattaforma di Morissà, ah vabbè Morissà clicca qui per Brighton 2, per Brighton 3, extrapedia channel, clicca qui per accedere alla piattaforma, quante robe che c'è insieme ragazzi, è incredibile, guarda, guarda, guarda è incredibile, guarda, molto piacere il teatro, Giulia, lui, staff only, only staff, vabbè ma l'indice alfabetico, ecco, cosa c'è dentro, tutte queste voci, chi, guarda, 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 A, B, Berlino, Bill Gates, ma l'osca quanta roba che c'è, è chi che vuole una vita a cercare tutta sta roba, chi, è pazzesco, guarda, 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 guarda che roba, siamo solo la G, guarda che roba, illuminati ho visto, chi, intervista con G. Boluca, c'è lo G. Boluca, boh, Morissà, questo, non esistono foreste sulla terra, censurato, come mai, boh, chi, Pentagono, vaccinati, plandemic, eh mamma mia quanta roba, Riccardo Coronzo, intervista a Dino Tinelli, 30 agosto, 2021, ah, 1 aprile 2022, ah, che roba, che roba, che roba, è un casino di roba, guarda, scie, 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 Stefano, dottor Stefano Scoglio, ci sei, c'ero, ma, Genkas in derova, chi, come si fa, SpaceX, 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 le stelle al sud, storia perduta della terra piana, la madosca, e la tartaria, guarda chi, la tartaria, la verità nascosta, terra piatta, terra piatta, Nikola Tesla, Tesla Nikola, mamma mia quante robe, che vale, 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 guarda che roba, Steiner, Rudolf Steiner, e dopo, quanto che è, chi, ha la, Vernon Coleman, i versetti della Bibbia, ah, questo è il documento, un PDF, era, interessante, bello, bello, bravo, zio Tom, con Paypal basta anche il valore di una buona tassina di caffè, grazie di cuore, area privata e staff only, voglio solo qui che fa parte, bello, bello, un bel sito, un bel sitarello, ma da chi? Libero ricercatore, vivere con arte, no, vivere per creare con arte, bello, 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 ma che roba, prima che ne erano due lucette, adesso viene solo una, vabbè, grazie. Grazie a tutti.